Sono giorni particolari per la diocesi di Trani invece perché sono in partenza le suore delle figlie della Carità che hanno il loro monasterio a Trani e a Biceglie per l'Assemblea Generale che si tiene a Parigi dal 5 al 12 maggio. Un evento importante anche per questa diocesi. Certo perché la Compagnia della Carità fondata da San Vincenzo, De Paoli e da Santa Luisa di Marillac quest'anno celebra il Capitolo Generale. Sarà eletta la nuova Madre Generale che risiede a Parigi e giustamente queste suore che sono diffuse nei 5 continenti giungono nei nostri tempi a circa 16.000, chiedono nella comunione e la solidarietà di tutte le chiese. Noi abbiamo, come tu ben hai ricordato, la presenza di queste tre comunità di figlie della Carità e giustamente siamo stati sollecitati a far nostra la loro supplica. Volentieri noi chiediamo al padrone della Messe che faccia fiorire sempre questa presenza di figlie della Carità di Santa Luisa, di San Vincenzo, De Paoli a servizio delle povertà del nostro tempo.